Bella a tutti ragazzi quorgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder sul mio canale vi porto questa squadra che ho voluto fare questo tipo di squadra un po' semplice con un giocatore IF, comunque ottimi giocatori e il costo non è elevatissimo quindi se la possono permettere penso un po' tutti ma soprattutto mi è stato chiesto di portare una squadra NLV cioè No Link Wasted cioè che non ci sono Link non necessari, sprecati come dice il termine quindi direi di partire subito, abbiamo 4 campionati e 6 nazionalità diverse se non ho sbagliato contarle partiamo dal portiere che è Yoris, eccolo qui davvero un ottimo portiere perché è fortissimo in qualsiasi cosa forse il piazzamento non è altissimo, comunque resta un portiere veramente fortissimo forse il migliore della Premier League dopo Courtois e comunque a me piace anche Art, volendo potete mettere anche lui poi andiamo col terzino destro che è, se lo trovo, se non sbaglio Glenn Johnson che ho dovuto mettere lui per rendere NLV la squadra è comunque un buon terzino, non è il massimo della vita anche perché non è velocissimo però in ogni caso il suo lavoro lo fa anche abbastanza bene poi come difensore centrale l'ho messo perché lo volevo provare a dire la verità non l'avevo ancora fatto da quando è uscito il suo upgrade ed è, è qui non lo so dove è, eccolo qui Emre Chan, versione upgrade difensore centrale come sappiamo lui è un centrocampista centrale però è stato gridato a oro messo da difensore centrale lo volevo provare perché è molto veloce e poi ha 4 stelle abilità, non esiste un difensore centrale con 4 stelle abilità e poi è un passaggio così alto è vero, ha un 69 di difesa che per un giocatore argento è pochissimo figuriamoci per un giocatore oro però in ogni caso devo dire che non è male ovvio se vi beccate le meniche, il dumbia o l'ibarbo di turno è ovvio che passa però passa anche con company i barbo di turno quindi non ci sono problemi è un buon giocatore quindi vi consiglio di provarlo anche perché costa poco mentre qui a sinistra ho utilizzato dov'è 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 Varan che lui mi piace davvero tanto lo utilizzo dall'inizio di FIFA perché è davvero molto solido molto forte difensivamente fisico, alto e anche buona velocità quindi davvero un buon giocatore mentre come 3 su sinistro quest'anno lo avevo ancora provato eccolo qui, Marcelo con tutto il suo sorriso davvero un buon giocatore mi aspettavo qualcosa in più di velocità però comunque sia questo giocatore è fortissimo in qualsiasi statistica anche nel tiro che è solo un 67 ma quello dipende penso anche dalla finalizzazione in ogni caso io non ho fatto 257 partite con lui non so perché me le ha segnate ne ho fatte solamente 5 e vabbè poi esterno di destra ho voluto utilizzare Blasikovsky che quest'anno ho utilizzato davvero poco mi ha veramente sorpreso perché mi ha fatto 2 gol e 2 assist in 5 partite che è molto molto buono per un esterno velocissimo, ottimo tiro, ottimo dribbling peccato che ha solo 3 stelle abilità con quell'83 di dribbling mi sarebbero piaciute le 4 poi comunque ha un work rate che va bene per un esterno non va bene per un ala ma lui essendo un esterno lo lasciamo così buon passaggio, buon fisico poi centrocampista centrale di destra ho messo un giocatore non raro per fare intesa ovviamente cioè Bender, Lars Bender il fratello di Sven Bender e devo dire che mi sono trovato bene non è velocissimo, quello è vero però ha degli ottimi valori di difesa, di fisico e un buon valore di passaggio mi ha fatto comunque un gol e un assist in 5 partite quindi media di tutto rispetto per un giocatore così mentre come suo compagno di reparto a centrocampo ho utilizzato un altro giocatore non raro che anch'esso volevo provare e mi sono veramente ricreduto su questo giocatore non pensavo fosse così buono e adesso non so se riuscirò a trovarlo nel giro di pochi minuti eccolo qui Jean-Elin Boulat che ha questo work rate alto normale che non è il massimo per un centrocampista difensivo come è lui però devo dire che mi sono trovato molto bene ha un'ottima velocità per il resto non ha statistiche altissime se non per il fisico però devo dire che sembra che in campo sia molto solito recupera tanti palloni e smista abbastanza bene le palle le palle, la palla intesa ovviamente e mi ha fatto comunque un assist in 5 partite quindi va abbastanza bene poi esterno di sinistra ho utilizzato dove, dove, dove Romain Alessandrini per fare tripla in perfect chemistry con Imboulat a me Alessandrini piace particolarmente perché è veloce, è agile ha un ottimo tiro anche dalla distanza ha un ottimo dribbling 4 stelle per debba e 4 stelle abilità è un discreto passaggio quindi secondo me è un ottimo giocatore che mi ha fatto 4 assist nelle partite che ha giocato non so, nelle ultime 5 partite con questa squadra mi ha fatto tipo 2-3 assist comunque sono sufficienti perché è davvero un ottimo giocatore poi a T giocatore che volevo provare maggiormente e stiamo parlando di Cialanoglu che devo dire ragazzi è veramente un top giocatore 6 gol in 5 partite è tantissimo per una seconda punta è un giocatore che si presenta con un 76 di velocità che non è tanto si sente un po' in campo che è abbastanza lento come giocatore però quando fate partire il tiro dalla distanza sia di destra che di sinistro con 5 stelle e piede debole fate sempre gol si può dire mi ha fatto tanti tiri dalla distanza tanti gol dalla distanza costa poco ha 4 stelle abilità quindi un ottimo dribbling mi ha sorpreso un po' il passaggio in negativo però purtroppo non è il massimo nel fare passaggi nel servire assist e questo infatti da questo dipende lo 0 assist che vedete però se devo dargli un voto da 1 a 10 gli do un bel 8 perché è davvero fortissimo e vi trovate davvero bene a giocare con lui è sempre in posizione mentre l'ultimo giocatore di questa squadra è un altro giocatore che volevo provare cioè Lewandowski che quest'anno credetemi non l'avevo ancora provato perché non ho mai avuto l'occasione di farlo qui le partite sono sballate non sono 7 bensì 5 non so perché come Alessandrini no come Marsello che ha sbagliato non so ci sarà qualche bug strano mi ha fatto 5 partite 4 gol e 3 assist comunque un'ottima media considerando che maggiormente giocavo con Cialanoglu piuttosto che con Lewandowski mi concentravo un po' più sul turco perché mi divertivo di più ottimo giocatore peccato che non è velocissimo un po' si sente in campo la sua velocità non altissima però in ogni caso palla al piede questo giocatore è veramente incredibile comunque raga questa è la squadra NLV come potete constatare se vi piace fatela ve la consiglio è divertente costa poco e niente è divertente lasciate un bel like se vi è piaciuta 300 mi piace uscirà un nuovo video consigliatemi sempre nei commenti nuove squadre da fare stavo pensando di fare un nuovo tipo di serie concentrata sugli squad builder con divisi per vari campionati mettendo i giocatori che per me sono i più forti o i miei preferiti di quel campionato fatemi sapere nei commenti se l'idea vi garba consigliatevi sempre nuove squadre nuovi giocatori da inserire in qualche squadra iscrivetevi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione adesso vi lascio il clip noi ci vediamo al prossimo video bella raga iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale